le parti del corpo gli occhi gli occhi gli occhi, io sono gli occhi dov'è il naso? e la bocca dov'è? i denti? le orecchie? i capelli? bravo, la testa? il braccio? braccio le mani? bravo, la gamba? bravo, la gamba? bravo, bravissimo il piede? bravo bravo, una difficile ora il ginocchio? no, il ginocchio il ginocchio prima ce l'hai fatto vedere a babbo e mamma bravo e la pancia? bravo, la schiena? bravo la schiena, che ti faceva male oggi dov'è la schiena? bravo e invece c'è un'altra che ti ricordi sempre il cuore dov'è che batte? bravo e come fa? bravo come fa? bravo 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 bravo